È irragionevole l'automatismo secondo il quale chi ha avuto una denuncia per determinati reati debba essere considerato responsabile di comportamenti incompatibili con la vocazione e la destinazione di determinate aree. È il passaggio chiave delle motivazioni della sentenza con cui il Tar della Toscana ha annullato il provvedimento della Prefettura di Firenze sulle cosiddette zone rosse. 17 aree della città divenute off-limits per tutti coloro che siano stati anche solo denunciati per rissa, stupefacenti, lesioni, percosse o commercio abusivo. Il provvedimento era stato istituito dalla Prefettura lo scorso 9 di aprile per motivi di sicurezza pubblica. Sempre il Tar ha ritenuto che il provvedimento avrebbe dovuto essere formulato in maniera tale da colpire quei soggetti non solo denunciati ma che, per i loro comportamenti, possano ritenersi che concretamente ostacolino l'accessibilità e la fruizione di determinate zone cittadine. Ad esempio persone che costantemente stazionano in determinati punti della città per vendere droga o che abitualmente mettano in atto comportamenti violenti. Per disporre misure e incidenti sulle libertà costituzionalmente garantite è necessario, dice ancora il Tribunale, che alla denuncia del soggetto si aggiungano altri elementi qualificanti la sua pericolosità. Secondo il Tar, infine, non si può giustificare l'utilità dell'ordinanza. Con la presunta carenza di uomini e mezzi delle forze dell'ordine di cui manca la dimostrazione.